Ci siamo, è tutto pronto? E allora via, si parte, buon divertimento con Barcellona contro Juventus, la seconda amichevole stima della Juventus in questa estate americana del 2022. Attenzione alla Barcellona con questa conclusione, palla fuori di pochissimo, che sventola di Pierre, Emeric, Obama e Young. Locatelli alza la testa, Locatelli morbido, il pallone lungo a cercare Moise Ken, subito chiuso, ma la Juventus rimane in avanti con anche Di Maria. Valfideo, Di Maria, Di Maria, Di Maria, con il mancino Ter Stegen, blocca terra, una partita divertente qui a Dallas. Sale il Barcellona, Serginio d'Est per Dembélé, si riaffazzano loro dopo un bel po' di minuti. Dembélé dentro la red di rigore, Dembélé ancora, Dreaming, Dembélé, 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 la palla in red. Il vantaggio della Barcellona con un grandissimo gol di Dembélé, 34esimo minuto del primo tempo, un gol veramente fantastico. Bruncci subito in avanti, buona palla questa per Zaccaria, Zaccaria verso Locatelli, liberissimo Juan Quadrado, va a ricevere il colombiano, Valpanita, Quadrado dentro il pallone a cercare Ken, il pareggio della Juventus, Moise Ken, un falco all'interno dell'area piccola, va a rimettere le cose in parità, 1-1. Moise Ken, primo gol di questa sua estate, primo balletto, sperando ce ne siano tantissimi in questa stagione 2022-2023. Sergio Busquets, occhio all'inserimento di Nico González, ma la palla ancora per Dembélé, Quadrado va a dare una mano ad Alexandro. Dembélé lo punta, Dembélé ancora, Dembélé chiuso da Quadrado, passa ancora Dembélé, attenzione, Dembélé! 2-1 per il Barcellona, scatenato, Ousmane Dembélé. Locatelli, apertura perfetta per Di Maria, che mette giù un pallone pazzesco, Di Maria ancora, Di Maria dentro nel corridoio, cercare Ken, niente a fare, arriva Zaccaria, Zaccaria vuole l'inserimento di qualche compagno, pallone dentro, arriva Ken! 2-2, implacabile, Moise Ken, un gol nel primo tempo, un gol nel secondo, siamo di nuovo pari, non sbaglia mai, 2-2. Strescigno destra si è fatto anticipare da Manuel Locatelli, 2-2 il punteggio, doppietta di Dembélé, doppietta di Moise Ken. Di Maria, Di Maria ancora, Di Maria nel corridoio per Zaccaria, Zaccaria è provato ad andare con l'esterno, ancora la Juventus, non è finita con la conclusione! Da parte di Juan Quadrado, la deviazione in calcio d'angolo di Ignachi Pegna. Va Rafinha con il sinistro, incrocio dei pali pieno, gran botta da parte di Rafinha, non è finita, Barcellona ancora una volta in avanti, vuole il gol del 3-2, vuole tornare in vantaggio, Ansu Fati, il suo traversone in mezzo, incrocio dei pali ancora, incredibile, doppio legno per il Barcellona. Possibilità di cross, cross in mezzo con il tacco, Perin, non è finita, Depay, palla fuori, grande parata di Mattia Perin, finisce qui la partita al Cotton Bowl Stadium di Dallas, Texas, finisce 2-2.